Io ritengo sia opportuno continuare con quelli che sono già i progetti e gli obiettivi che il Corpo della Polizia Municipale di Montemurlo ha iniziato, in particolare ovviamente ci riferiamo al controllo del territorio, la prossimità, la vicinanza al cittadino e contestualmente continuare quel grande lavoro che è già stato fatto durante questi ultimi anni sul controllo della legalità perché ovviamente Montemurlo presenta una zona industriale e quindi un'attività industriale molto estesa e quindi direi continuare sicuramente con queste attività e poi cercare ovviamente di implementare forse la parte di prossimità e quindi la vicinanza ai cittadini.